In questo video analizziamo un'applicazione in mobilità per gestire il raccolto. Abbiamo utilizzato due dispositivi mobili, quindi un terminale dove dentro c'è un'applicazione per la gestione del raccolto e uno stampante portatile collegato a bluetooth al terminale. In questo caso con questa applicazione possiamo stampare direttamente sul luogo le etichette di cui abbiamo bisogno e quindi fare un'etichettatura esattamente nel punto in cui ci troviamo. In questa applicazione abbiamo due menu, in questo caso l'etichetta campo, c'è l'anagrafica del campo, ovviamente noi abbiamo sviluppato secondo precise indicazioni, mettiamo ok, possiamo faccia un filtro, la materia prima, in questo caso ci sono delle tabelle inserite all'interno, quando scegliamo un prodotto, possiamo stampare indicando nella quantità le etichette e quindi direttamente nel punto di applicazione noi andremo a stampare e a utilizzare immediatamente l'etichetta sulla nostra cassetta. Ovviamente qua possiamo fare anche l'etichetta del semilavorato, quindi andremo a scegliere sempre dalla tabella precaricata, salvata all'interno del terminale, abbiamo anche tutta una serie di filtri, possiamo scorrere per cercare oppure possiamo applicare i filtri, andiamo a inserire il lotto, cosa importante nel momento del raccolto, quindi dalla nostra tastiera andiamo adesso ad inserire un lotto, a questo punto possiamo stampare le etichette immediatamente, quindi un'applicazione che ci è utile quando lavoriamo in completa mobilità e non abbiamo strumenti se non una stampante portatile che possiamo collegare a tracollare la cintura e un terminale portatile.